2 a 2 in questa partita molto avvincente tra Power Rangers e Lauria, tra me le squadre sono abbastanza rimaneggiate per l'assenza di diversi giocatori titolari, adesso i Lauria che con Armando Lavoglio possono andare alla rimessa in gioco. Cerca Sorrentino, Turillo, Turino, ferma tutto per riparto nei pali di Power Rangers con il numero 20 che vince un rimpallo. Buono qui il dribbling a rientrare, allargato ancora per Turino, rimessa in gioco che concede Stefanelli. Rimessa in gioco in zona d'attacco per i rossi, decimo qui viene anticipato ancora in fallo laterale, questa volta dalla parte però opposta. Ancora decimo, gioca vicino, anticipa tutti Donofrio, va via attenzione 3 contro 2, Donofrio serve bene il compagno che con il sinistro va a calciare, c'è la bella parata a terra del portiere dei Power Rangers che sostituisce oggi Paoli. Qui adesso c'è l'azione d'attacco dei Power Rangers con il tacco bello, il tiro rimpallato ancora da Stefanelli. Altra rimessa laterale per i russi, provano a riportarsi avanti. Buona palla al numero 20, prova a girarsi Badolato da gran portiere, tiene su i suoi calcio d'angolo per i Power. Dentro ancora il numero 20, Badolato fa buona guardia, può andare a rinvio con il destro, sbagliato però perché c'è decimo che la gioca vicino per un compagno. Ancora buona la pirouetta, non c'è nessun fallo, quindi maresca. Allarga ancora per Turino, buono il dribbling di Turiello, il tiro di piatto sinistro. La palla esce di un soffio, si spegne sul fondo. Rimessa dunque per Mario Badolato. Lungo in avanti, dove Sorrentino viene anticipato da maresca. Parla ancora per Turino. Sorrentino, di testa, bene la sponda al decimo, chiude tutto. Fallo laterale. Grazie. Messa in gioco per i bianchi. Sorrentino può esplodere il mancino, rientra invece, è fermato, poi a volio. Ferma tutto, può cacciare di destro, la palla respinta di ginocchio dal portiere dei Power. Rimessa laterale per i rossi, seguiamo l'ultimissima azione prima di chiudere il collegamento. Maresca, fermato, attenzione, il tiro di destro, nessun problema. 2-2 Power contro Lauria. Chiediamo qui il nostro collegamento.